buongiorno a tutti e grazie anche quest'anno dell'inviso alla sedicesima edizione del work long day mi spiace non essere in presenza prometto che il prossimo anno ci sarò ma insomma è capitato un periodo un po complesso della della mia vita lavorativa quindi non riesco a esserci ma volevo comunque che rios facesse un saluto a questa giornata dedicata a plone che tra l'altro è uno dei prodotti completamente fondati sul software open che continua in questo momento in cui insomma alcuni modelli di business dei prodotti open bacillano un po plone rimane integro e va avanti nella sua proposizione e tra l'altro oggi lo vedremo esprimersi al massimo insomma della sua della sua forma perché vedremo come è evoluto come prodotto in sé ma anche come attraverso l'esperienza dei clienti e di grandi sistemi integrator come rettartole insomma che da sempre organizza questa giornata riesce a evolvere anche grazie a integrazioni questo è proprio il pieno rispetto del mondo dell'open e delle politiche dell'open quello di crescere col prodotto ma anche integrandosi con prodotti terzi che riescono a rispondere alle esigenze dei clienti quindi io vi saluto a nome di rios che come sapete alla rete italiana dell'open source che ha aggregato nove aziende che da anni lavorano appunto con soluzioni come plone nel panorama italiano in una formula che insomma ormai conoscete perché ve l'ho descritta anche negli anni precedenti ma piuttosto innovativa che è quella della rete di imprese quindi ogni azienda cresce con i suoi clienti ma insieme riusciamo a aumentare esponenzialmente il potere della nostra crescita perché riusciamo a mettere a fattore comune le esperienze che ogni giorno facciamo sul mercato quindi per questo il modello della rete è ancora funzionale e cresce e spinge perché ogni azienda riesce a crescere nella sua dimensione ma insieme appunto cresciamo ancora ancora di più quindi vi lascio a questa bella giornata e un saluto da rios grazie